Allo stadio Gino Manni di Colle Valdelsa si affrontano la Colligiana e l'asta per l'ultima partita della stagione regolare. I padroni di casa non hanno più niente da chiedere a questo campionato, mentre agli arancio blé serve almeno un punto per avere la matematica certezza di affrontare in casa il play-out. Il primo squillo della partita è della Colligiana con Cianciolo che prova il mancino dalla distanza, la palla sfila fuori di poco. Si fa vedere anche l'asta che sfonda sulla destra, poi le suggerimenti per Gabriele Mazza che tenta una soluzione a metà tra un tiro e un cross ma colpisce male. Ancora pericolosa la Colligiana con il cross dalla destra di Gambassi, Mussi è tutto solo ma manca l'appuntamento con il pallone. Di nuovo l'asta in attacco al 28esimo con Gerard che recupera palla testardamente il 7 attacco e poi prova il tiro con il sinistro ma Gambassi respinge. Marabese poco dopo la mezz'ora controlla tra le linee e calcia con il destro ma spara troppo alto. Ancora Colligiana al 33esimo il passaggio dentro al volo di Barontino è per Mussi che ci prova ma sfiora soltanto e la palla va fuori. Al 37esimo fallo che l'arbitro giudica il limite dell'area di rigore, del tiro da posizione molto insidiosa se ne incarica Marabese. Cicale riesce a respingere, poi Barontini la tocca sopra la traversa. A fine primo tempo l'asta la sblocca con la bella imbucata di Pugliese per il taglio di Gabriele Mazza che a tu per tu con Petrucci non sbaglia e di piatto fa 1-0. Inizia forte la Colligiana alla ripresa con il cross dalla sinistra perfetto per la testa di Finetti che stacca in alto ma colpisce la traversa. Ci prova di nuovo la Colligiana sempre con il solito Marabese, il suo tiro secco non passa lontano dalla porta. La Colligiana la pareggia al dodicesimo della ripresa, Polo riceve palla da fuori area, si gira e tira a fil di palo dove Cicale non può arrivare e fa 1-1. E finisce qui, la Colligiana conclude la sua stagione con un pareggio mentre l'asta affronterà la partita di play-out in casa contro i Firenze Ovest.